E' tempo di resoconti sull'anno appena trascorso e di tirare le somme circa l'operato svolto in Calabria dai carabinieri per quanto riguarda il 2019. Partendo dal settore del contrasto e fenomeni criminali, i carabinieri hanno inciso per l'84% delle denunce a piede libero e per oltre il 64% degli arresti. Così il comandante del comando provinciale dei carabinieri Giuseppe Battaglia ha voluto commentare il bilancio tracciato ed esposto agli organi di informazione. Per tutti i 12 mesi sono state controllate 261.000 persone, oltre 245.000 mezzi. L'arma dei carabinieri è presente come unico presidio di polizia sul 90% del territorio della provincia ed è intervenuta nel 76% dei reati commessi. Emerge dal report il dato pari a 308 arresti in flagranza di reato e 518 arresti su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nonché 4.330 denunce a piede libero, rinvenute 73 pistole, 5 bombe, 14.000 proiettili, una tonnellata di materiale esplodente e 146 fucili. In campo patrimoniale, passando in rassegna le varie operazioni, effettuati 25 sequestri per un complessivo di 300 milioni di euro e 8 confische che ammontano a oltre 13,8 milioni di euro. Un lavoro d'eccellenza è quello svolto dallo squadrone di Portato Cacciatori Calabria, grazie al quale sono stati sgominati due bunker e si è proceduto all'arresto di tre persone e al deferimento in stato di libertà di due persone, nella maggior parte dei casi appartenenti alle cosche del posto. Scovati 12 latitanti, tra cui due inseriti nella lista nera dei pericolosi, Francesco Stranger e Rosario Grasso, e dieci inseriti nella lista dei comuni. Di spessore anche l'operazione antidroga dello scorso mese di novembre e che ha portato al sequestro di cocaina pari a 1,2 tonnellate. E va aggiunto che se questi sono i risultati, viva l'arma dei carabinieri!